Vogliamo presentare con questo video lo studio svolto dagli scienziati Nina Drunkers, Paysan, Iba Zizen e Cabanis, pubblicato nell'aprile del 2007. L'articolo dal titolo Paul Brook as Historic Cases, High Resolution and More Imaging of the Brains of Le Born and Le Long, analizza i casi dei due pazienti di Broca con lo scopo di valutare le zone lesionate dei due cervelli tramite immagini delle risonanze magnetiche ad alta risoluzione. Pierre Paul Broca fu un chirurgo e antropologo francese. Professore nell'Università di Parigi dal 1867 pubblicò notevoli studi sulle localizzazioni cerebrali del linguaggio. Nel 1861 descrisse i casi dei due pazienti, Le Born e Le Long, che avevano perso la capacità di parlare in seguito a lesione della circonvoluzione postero e inferiore del lobo frontale del cervello. Studi clinici sulla fascia di Broca consideravano che la causa dei deficit di questi pazienti fosse dovuta unicamente alla disfunzione dell'area di Broca, attribuendo così tutti gli aspetti di disturbo a questa unica regione del cervello. L'obiettivo dei ricercatori era quello di confrontare l'area descritta da Broca con l'attuale area motoria del linguaggio. Essi hanno descritto i risultati della risonanza magnetica del cervello dei due pazienti storici di Broca e hanno scoperto che le lesioni di entrambi si estendevano significativamente nelle regioni mediali del cervello, oltre alle lesioni superficiali osservate da Broca. Louis-Victor Le Born aveva iniziato ad avere problemi durante la sua giovinezza, quando aveva sofferto della prima crisi di epilessia. A trent'anni però persi improvvisamente la parola, poteva solo produrre la sillaba gergo TAN. Broca all'autopsia ha trovato una lesione sulla superficie del lobo frontale sinistro, come aveva sospettato. Broca stesso ha scritto, non poteva più produrre che una sola sillaba, che lui di solito ripeteva due volte in successione, indipendentemente dalla domanda che gli veniva posta, rispondeva sempre TAN TAN, combinata con vari gesti espressivi. Pochi mesi dopo, Broca incontrò un secondo paziente, Le Long, paziente di 84 anni che presentava un deficit del linguaggio in seguità di un ictus avuto l'anno precedente. Egli poteva dire solo cinque parole, oui, non, toi, tu joues e le Long. All'autopsia Le Long presentava una lesione nella stessa regione del lobo frontale del primo caso. Ciò portò Broca a confermare questa come sede del linguaggio. Entrambi i pazienti soffrivano della stessa grave forma di afasia, che Broca chiamò afemia, riferendosi all'assenza di parola e credendo che fosse indipendente dalla disfunzione del linguaggio. I sintomi dell'afasia di Broca possono includere problemi come fluidità, articolazione, ricerca di parole, ripetizione, produzione e comprensione di strutture grammaticali complesse, sia oralmente che per iscritto. Ripassiamo ora un po' di anatomia. L'area di Broca comprende pars triangularis, che corrisponde all'area 45 di Brodman, è associata alla programmazione della condotta verbale. Pars opercularis, che corrisponde all'area 44 di Brodman, presiede al coordinamento degli organi coinvolti nella riproduzione della parola. L'area di Broca comprende anche strutture mediali, tra cui l'insule ganglia alla base, che Broca non poteva esaminare, poiché si era concentrato sulle lesioni corticali senza quindi dissezionare il cervello dei due pazienti. Considerando che la sindrome dell'afasia di Broca colpisce così tante diverse componenti del cervello, non è sorprendente che sarebbero coinvolte anche altre aree del cervello. I ricercatori hanno avuto l'opportunità unica di scansionare il cervello di entrambi i pazienti, le borne e le long, utilizzando la risonanza magnetica volumetrica ad alta risoluzione. Questo ha permesso di vedere il cervello in tre dimensioni ed esaminare l'estensione di entrambe le lesioni corticali, già studiate da Broca, e quelle subcorticali che non erano ancora state prese in considerazione. Le figure A e B mostrano una parte della lesione di le borne, che è chiaramente visibile nella circonvoluzione frontale inferiore, in particolare nel suo terzo medio, con ulteriore atrofia del terzo posteriore, appena sopra la scissura di Silvio. Inoltre è stata osservata una modesta atrofia nella circonvoluzione frontale media e nella circonvoluzione temporale anterosuperiore. A un'attenta ispezione sono state notate anche sezioni deformate e necrotiche del lobo parietale infero anteriore. L'emisfero destro era intatto. Le viste laterali del cervello di le long sono mostrate nelle figure C e D. La corteccia è gravemente atrofizzata, la scissura di Silvio è diventata così allargata che l'insula è quasi completamente esposta. Queste sono le immagini rappresentative del cervello di le borne. Il danno è diffuso in tutto l'emisfero sinistro, sia corticale che subcorticale. L'emisfero sinistro è chiaramente più piccolo e distorto a causa della distruzione della corteccia e della sostanza bianca. Fette sagittali, assiali e coronali attraverso il cervello rivelano lesioni nella parte inferiore sinistra del lobo frontale, nella parte inferiore del lobo parietale e nella parte anterosuperiore del lobo temporale. L'insula viene completamente distrutta, l'intera lunghezza del fascicolo longitudinale superiore è distrutta ed è anche colpito il fascicolo succalloso. L'emisfero destro non è interessato. Vediamo ora la risonanza di le long. L'emisfero destro non è stato conservato. Le fette sagittali, assiali e coronali confermano la grave atrofia annotata in precedenza e la lesione della parte posteriore della circonvoluzione frontale inferiore. La lesione coinvolge la parte posteriore del pars opercularis, mentre la metà anteriore di questa struttura e l'intera pars triangularis sono completamente risparmiati. Inoltre piccole lesioni distinte sono presenti nel fascicolo longitudinale superiore sopra l'insula lateralmente al corno anteriore del ventricolo laterale sinistro. L'insula, sebbene gravemente atropizzata, non è lesionata. Un confronto tra l'anatomia delle lesioni dei due pazienti rivela che entrambi avevano anche lesioni in un importante percorso della sostanza bianca, il fascicolo arcuato longitudinale superiore, il lungo tratto di fibre che collega le aree cerebrali posteriori e anteriori. I tratti di materia bianca visti così chiaramente nell'emisfero destro sono del tutto assenti a sinistra. Vi è una completa distruzione delle profonde aree frontali e parietali attraverso le quali passa il fascicolo longitudinale superiore. Un sorprendente confronto tra i due lati del cervello delle borne possono essere visti nella fetta assiale A e coronale C, in cui sono presentati entrambi gli emisferi. Al contrario, il cervelletto, i lobi occipitali, i lobi temporali inferiori, i lobi frontali e parietali superiori e ipocampi sono intatti in entrambi gli emisferi. Il riesame del cervello dei due casi storici di Paul Broca ha prodotto diversi risultati interessanti. In primo luogo le immagini di risonanza magnetica ad alta risoluzione hanno mostrato che le lesioni in questi due importanti pazienti si estendevano molto più in profondità di quanto Broca fosse in grado di riferire e suggeriscono che anche altre zone, oltre all'area di Broca, potrebbero aver contribuito ai deficit del linguaggio di questi due pazienti. Sebbene le lesioni nella sola area di Broca possano causare un'interruzione del linguaggio temporanea, non provocano un arresto del linguaggio grave e persistente. Pertanto è possibile che la femmia caratterizzata da Broca come essenza di linguaggio produttivo sia stata influenzata anche dalle lesioni della regione del fascicolo longitudinale superiore. Scegliendo di non tagliare il cervello, Broca non ha potuto conoscere l'entità del danno sottostante nei suoi pazienti e il ruolo che potrebbe svolgere nei loro disturbi del linguaggio. Broca ha capito che la lesione in Leborn si è stesa sottocorticalmente, ma non è stato in grado di determinare la sua estensione mediale o posteriore, poiché il danno più evidente era nella circonvoluzione frontale inferiore, ha concluso che quest'area era la prima interessata e quindi la causa del deficit articolare. Questa conclusione era coerente con la teoria neurologica del suo tempo e Broca non aveva motivo di considerare altre aree come la fonte del disturbo del linguaggio. Anche se potrebbe non svolgere un ruolo così esteso come si pensava, l'area di Broca è sicuramente coinvolta nell'esecuzione dei movimenti articolari. Lo studio evidenza la natura poliedrica della fascia di Broca, sintomi che comprendono una ridotta fluidità del parlato, lieve a moderata compromissione della comprensione del linguaggio e in alcuni casi a grammatismo. I risultati di questo studio suggeriscono che la fascia di Broca è causata da danni alle aree di Broca e Verniche, sebbene il tipo di lesione tra gli individui afastici di Broca può variare considerevolmente. Due recenti studi suggeriscono che la fluidità del parlato è alterata principalmente nelle lesioni che coinvolgono il segmento anteriore del fascicolo arcuato, che fa parte del fascicolo longitudinale superiore, composto da fibre di associazione che collegano l'area di Broca con l'area di Verniche. Questo studio ha permesso di scoprire che le lesioni che caratterizzano la fascia di Broca coinvolgono strutture più mediali che Broca non ha potuto considerare. Grazie a Broca sappiamo che il linguaggio e la cognizione sono molto più complicati di quanto si pensasse e coinvolgono grandi reti di regioni cerebrali e fibre di collegamento. Fortunatamente Broca ha avuto una grande lungimiranza nel preservare questi cervelli storici e, in qualche modo, le borne e le long possono parlarci più eloquentemente ora di quanto non potessero fare più di 140 anni fa.